Comunicazione su Jessica Morlacchi. Grande fratello, sta arrivando l'annuncio di Signorini. Il primo aspetto rilevante è l'importanza della figura di Jessica Morlacchi all'interno del reality. Ex cantante del gruppo Gazzosa, Jessica è già una celebrità conosciuta dal grande pubblico, e la sua partecipazione al Grande Fratello ha generato fin da subito molto interesse. Questo è rafforzato dal fatto che Alfonso Signorini, il conduttore del programma, ha in programma di fare un'importante comunicazione rivolta a lei durante la puntata del 23 settembre. Non si conoscono ancora i dettagli di questa comunicazione, ma si tratta di un momento decisivo che potrebbe influenzare il futuro della concorrente nel gioco. L'annuncio potrebbe riguardare una promozione all'interno della casa, un cambio di dinamica o, in modo più drammatico, una decisione legata alla sua permanenza nel reality. Il pubblico è particolarmente interessato a scoprire quale sarà l'impatto di questa comunicazione, soprattutto in relazione al fatto che Jessica è considerata una delle concorrenti preferite dal pubblico, secondo i sondaggi. Un altro elemento di grande interesse è il risultato del sondaggio lanciato da Novella 2000 sugli otto concorrenti in nomination. Jessica Morlacchi ha ottenuto il 38% delle preferenze, un dato significativo che la pone in testa rispetto agli altri concorrenti. Questo indica chiaramente che il pubblico la supporta fortemente, nonostante la competizione agguerita. Nel sondaggio, i concorrenti con il minor consenso sono stati Ilaria, 2%, Iulia, 3% e Giglio, 6%, mentre i voti più alti, oltre a Jessica, sono andati a Lorenzo, 16% e Luca, 14%. La differenza significativa tra il punteggio di Jessica e quello degli altri concorrenti evidenzia il suo potenziale come una delle protagoniste principali di questa edizione. Tuttavia, nonostante il sostegno popolare, il percorso nel Grande Fratello è notoriamente imprevedibile e pieno di ostacoli, motivo per cui anche i fan più accaniti attendono con ansia la diretta per conoscere i risultati ufficiali. Un fattore chiave che cattura l'attenzione del pubblico è l'incertezza che circonda l'annuncio di signorini. Nonostante il forte sostegno nei sondaggi, non è ancora chiaro quale sarà l'oggetto della comunicazione. Potrebbe trattarsi di una notizia positiva, come un riconoscimento o un privilegio all'interno della casa, oppure di una notizia più negativa, che potrebbe minacciare la permanenza di Jessica nel programma. Questo alone di mistero è una delle principali ragioni per cui l'interesse del pubblico è così elevato. Le comunicazioni inaspettate sono sempre un elemento di suspense nei reality, e il fatto che Jessica sia una concorrente così popolare rende il momento ancora più cruciale. Gli spettatori sono particolarmente coinvolti emotivamente e vogliono sapere come questa svolta influenzerà non solo Jessica, ma anche gli altri concorrenti. Jessica Morlacchi non è solo una concorrente amata dal pubblico, ma anche una figura centrale nelle dinamiche interne della casa del grande fratello. La sua personalità forte e la sua esperienza nel mondo dello spettacolo le hanno permesso di distinguersi fin da subito. Il pubblico è curioso di vedere come l'annuncio influirà sui suoi rapporti con gli altri concorrenti e sugli equilibri all'interno del gruppo. Il pubblico del grande fratello è abituato a colpi di scena e svolte improvvise che possono cambiare il corso del gioco. L'attesa per l'annuncio su Jessica Morlacchi è carica di aspettative proprio per questo motivo. I fan del programma sanno che ogni dettaglio, ogni comunicazione da parte del conduttore, può essere decisiva per il futuro dei concorrenti. L'anticipazione di una svolta rilevante per Jessica, come descritto nelle anticipazioni, ha quindi creato un'atmosfera di tensione e curiosità, alimentata dal fatto che nessuno sa esattamente cosa aspettarsi. Il pubblico è fortemente attratto dalle dinamiche in corso nel grande fratello, in particolare riguardo all'annuncio che coinvolgerà Jessica Morlacchi. L'attenzione è rivolta sia al possibile impatto dell'annuncio sul suo percorso all'interno del reality, sia alle reazioni che questo potrebbe scatenare tra gli altri concorrenti e tra gli spettatori. Il sostegno popolare di Jessica, evidenziato dai sondaggi, e l'incertezza che circonda l'annuncio imminente rendono questo momento uno dei più attesi della puntata del 23 settembre.